Concludiamo questa sera la prima visita pastorale nella parrocchia di San Pietro, la prima della città di Mazzara del Vallo. Esprimo tutta la mia soddisfazione per quello che ho qui incontrato, per le persone che ho visto, per lo stato di salute che la parrocchia mostra, soprattutto adesso che con il nuovo parroco da alcuni mesi ha ripreso un certo cammino di comunione, di impegno, di attenzione a tutti, dai piccoli ai grandi, alle persone sole e anziane. È stata un'esperienza molto bella soprattutto nelle scuole per cui ho incontrato tutti i fanciulli e i ragazzi e ho notato che stanno facendo dei cammini formativi con le loro insegnanti e aprono il cuore alla speranza perché queste giovani generazioni così recettive sia dei messaggi culturali sia dei messaggi spirituali e religiosi ci autorizzano veramente a pensare un domani che rivedrà protagonisti nella costruzione di una società più civile, più giusta ma anche più convinta nell'adesione ai valori umani e ai valori spirituali. È una bella speranza che consegniamo a loro perché siano attori di un mondo migliore che dia a tutti il compimento delle speranze che ognuno si porta nel cuore. Oggi concludiamo la visita pastorale del nostro Vescovo che ha visitato la nostra parrocchia, ha visitato i giovani, ha visitato le famiglie, ha visitato le persone anziane, ha visitato tante persone e questa visita dovrebbe darci la capacità di fare verifiche ogni volta che siamo chiamati a verificare i nostri obiettivi, la nostra strada, se è giusta, se è come la volontà di Dio. E ringraziamo il Signore proprio di questo incontro, di questa visita del nostro pastore che viene a visitare le sue pecore.